Adesso però è arrivato un altro momento. Adesso è arrivato il momento, sì, benedici Emanuela, il CEO Summit intitolato Mobilità Sostenibile e Community Engagement per una maggiore attenzione al territorio e collettività. Chiamo sul palco Simone Benporan, Gruppo Communication e Public Affairs, Director Assicurazioni Generali. E chiamiamo anche Paolo Gagliardo, CEO di Cuder, grazie, accomodatevi pure e naturalmente... E anche Deborah Rosciani, giornalista di Radio 24 che modellerà il dibattito. Ecco la collega del Sole 24 Ore e naturalmente poi ci rivediamo per la premiazione. Sì, solitamente mi piace mettermi qua laterale, guardarvi un po' così inclinata. Buonasera a tutti, allora ci hanno segnato questa sera un compito interessante, quello di affrontare un tema particolarmente interessante. Il tema della sostenibilità declinata naturalmente a seconda della vostra professionalità operata in due campi radicalmente diversi ma che comunque immagino si possano anche intrecciare perché poi Simone certi argomenti vanno raccontati, spiegati, comunicati e soprattutto portati sui territori. Adesso ci arriviamo con calma. Allora, occuparsi di territorio e di comunità è diventato un compito collettivo. Oggi riflettevo su come potesse essere al meglio presentato questo argomento e questo confronto questa sera. È un compito che ci vede impegnati tutti, responsabilizzati tutti in qualche modo e ci viene chiesto anche un po' se volete un atteggiamento nuovo perché dobbiamo affrontare e gestire i cambiamenti sociali ed ambientali che si muovono attorno a noi anche peraltro piuttosto rapidamente. Noi lo facciamo a livello individuale, sarà banale continuare a dirlo, ma quanti di noi hanno drasticamente ridotto l'utilizzo di mezzi privati per circolare, per rendere naturalmente le città migliori dal punto di vista della qualità della vita per risparmiare non solo ma anche un po' per consegnare forse ai nostri figli degli ambienti quelli dove viviamo migliori e quanti di noi, adesso faccio come ho fatto nell'ultimo CEO Summit un super sondaggio, quanti di noi hanno drasticamente ridotto l'utilizzo delle bottigliette di plastica? Naturalmente sulla scia del richiamo di Greta ma non solo. In ogni modo stiamo modificando i nostri stili di vita, facciamo anche delle scelte finanziarie diverse, di risparmio, di investimento più attente a certi aspetti, allora tutto questo genera delle ricadute positive importanti e le aziende, abbiamo capito, ce ne sono sempre di più attorno a noi, stanno modificando ovviamente anche i loro metodi di produzione, stanno modificando le loro proposte commerciali ovviamente per seguire tutto questo. Allora, sentiamo qual è l'esperienza di queste due aziende grandi che ci raccontano la loro vita recente, naturalmente concentrata su questi impegni. Allora Simone Bemporad, parliamo di assicurazioni generali, un colosso delle assicurazioni a livello europeo, voi vi siete molto impegnati ultimamente nel cosiddetto community engagement. Engagement, ci riflettevo, è una parola veramente molto bella, molto interessante. Che cosa state facendo con questo vostro nuovo, ma forse non tanto, nuovo cammino di coinvolgimento territoriale che vede però direttamente coinvolti anche tutti i vostri dipendenti e tutta la vostra forza? Grazie, grazie intanto di avermi qua stasera. Una piccola premessa prima di rispondere alla domanda, visto che hai citato la sostenibilità. La sostenibilità vuol dire in due parole perseguire il successo del business guardando a lungo termine e guardando all'interesse non solo di una categoria di stakeholder, che normalmente sono gli azionisti, ma all'interesse di tutti gli stakeholder. Questa è la sostenibilità. Come la interpretiamo noi in assicurazioni generali? In due direttrici, una che riguarda proprio il business e su questo stiamo facendo un percorso di trasformazione per fare in modo che i temi della sostenibilità, che sono quelli indicati dagli ESG e dai sustainable principles, entrino in tutte le cose che facciamo. Quindi parliamo col procurement per fare in modo che i fornitori delle generali abbiano queste caratteristiche, stiamo parlando con le HR, con le risorse umane per fare in modo che quando si fanno i colloqui candidati per le generali si cerchi di capire anche qual è e gli si dia peso la sensibilità delle persone che devono entrare su questi temi della sostenibilità e poi c'è tutto il tema della finanza, dei prodotti eccetera eccetera. Quindi c'è una parte di sostenibilità che è business. E poi c'è un'altra gamba che è business anche quello, però riguarda di più se vogliamo anche coloro che non hanno necessariamente una relazione con le generali, e quindi il tema della comunità, dei posti dove noi operiamo e dove evidentemente non siamo ciechi e guardiamo le grandi situazioni di disagio che ci sono nei paesi. L'infanzia in particolar modo. Sì, ecco, noi cosa abbiamo fatto come generale? Abbiamo dato via un'iniziativa che si chiama The Human Safety Net, la rete, perché è un'iniziativa che vogliamo aprire, non è un'iniziativa dove vogliamo mettere solo la bandiera delle generali, ma anzi cercare di aprirla a tante persone, di aprirla ai nostri dipendenti, di aprirla ai nostri clienti, ma anche di aprirla ad altre organizzazioni aziendali e non aziendali che possono dare una mano. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di creare un format che vale per tutti i paesi dove operiamo e lo abbiamo lanciato due anni fa. Adesso abbiamo coinvolto già 21 paesi in giro nel mondo che hanno aderito a questa iniziativa, 21 paesi dove le generali operano. Lavoriamo non solo con le nostre persone, lavoriamo ovviamente con delle organizzazioni non governative, con imprese sociali che sono in grado sul territorio, che conoscono le aree di disagio e operano in quelle aree di disagio e ne abbiamo identificate tre che riguardano tutti i posti dove operiamo. Quindi abbiamo cercato di avere maggiore impatto cercando di fare tutte le stesse cose. Le tre aree le abbiamo selezionate ascoltando i nostri dipendenti perché ci interessava avere una materialità col business che facciamo, ci interessa avere una scalabilità, ci interessa avere proprio un'attinenza con quelle che sono le caratteristiche di un gruppo assicurativo. E queste tre aree che abbiamo scelto sono tre aree che, come dicevi te, riguardano l'infanzia ma in realtà la riguardano in modo innovativo perché non andiamo tanto a guardare cose che noi abbiamo scelto come target. Abbiamo scelto come target i genitori o i caretaker, come si dice, dei bambini tra gli zero e i sei anni perché la scienza neuronale ci dice che il cervello è formato in quella fase lì e che se un essere umano, un bambino non riceve nei sei anni l'attenzione che deve ricevere, attenzione si intende il modo di nutrirsi, il dormire, il giocare, l'imparare eccetera eccetera, gli vengono a mancare quelle connessioni che poi si porta avanti per tutta la vita. Quindi i sei anni sono i sei anni più decisivi della vita di un individuo, questo è quello che la scienza ci dice. E allora è evidente che nelle aree di disagio un bambino ha minore possibilità di avere questo tipo di attenzione. E quindi questo è uno dei progetti che abbiamo lanciato. Come lo facciamo? Appunto lavorando con organizzazioni non governative di volontari straordinari che fanno questa cosa qui e come assicurazioni generali le vogliamo aiutare ma non solo come assicurazioni generali da soli ma apposta creando questo network di altri che sono interessati a fare. Banalmente non solo finanziando un progetto di sostegno ad un territorio ma con un coinvolgimento diretto appunto e una ricaduta concreta anche di coinvolgimento sul territorio. Come avete notato un cambiamento? Come è stato recepito poi tutto questo? Ecco ci sono state anche delle differenze rispetto ai territori dove avete operato? Quali ricadute concrete sono arrivate? Intanto da quanto è partita questa rete? Noi diciamo abbiamo cominciato a presentare il progetto e a parlare del progetto 3-4 anni fa e diciamo in modo costante il processo è partito due anni fa. Qui adesso al tavolo con me ci sono qui al tavolo numero 4 alcune delle persone, direi non le più importanti sono tutte importanti ma diciamo alcune delle persone chiave dell'organizzazione che si sono messe lì con grande passione ed edizione e da zero abbiamo creato una rete di 21 paesi ad adesso e non ci vogliamo fermare. Abbiamo firmato dei memorandum d'understanding con altre aziende che sono interessate a questa iniziativa e poi voglio aggiungere un ultimo pezzetto, ovviamente possiamo parlarne per 7 ore se volete tanto l'argomento mi appassiona ma non li abbiamo. Allora il presidente Giommi non c'è magari ci possiamo prendere qualche libertà. Aggiungo un ultimo pezzo che direi oggi purtroppo è tornato di attualità. Diciamo questa human safety net si muove in tutto il mondo ma ha un cuore pulsante come tutte le cose ha un centro di origine che per noi sarà Venezia. Sarà Venezia, è una città importante per le generali perché sono sostanzialmente quasi, sono nate a Trieste le generali ma in realtà sono poi il primo ufficio, lo hanno aperto a Venezia nel 1832 e a Venezia le generali posseggono un palazzo iconico della città e quindi un palazzo iconico del mondo, essendo Venezia una città iconica del mondo, che sono le procuratie vecchie e cioè l'ala nord della piazza San Marco, quindi guardando la basilica sulla sinistra. Questo palazzo adesso è stato completamente svuotato, pronto per un grande restauro e in una parte di questo palazzo ci sarà la human safety net ci sarà in che senso? Ci sarà per cercare di raccontare meglio questa storia, di raccontarla a più di 20 milioni di persone che sono quelle che visitano Venezia tutti gli anni e di creare queste connessioni, queste alleanze e devo dire che poterlo fare a Venezia è un luogo iconico. Adesso le cose che abbiamo visto in questi giorni dimostrano quanto Venezia ha bisogno non solo di essere protetta ma anche di essere rienergizzata e quindi noi speriamo che la nostra presenza lì, che attraverso la human safety net è una presenza che aumenterà, possa aiutare Venezia a migliorare ancora. Molto bene, insomma ecco come il leone di Trieste si muove anche per Venezia ma non solo. Abbiamo capito allora qual è il vostro impegno per il sostegno all'infanzia in difficoltà, poi sarebbe interessante capire, questo magari sarà il secondo giro di domande, che tipo di ricadute positive un'iniziativa del genere ha anche relativamente all'impatto positivo nei confronti di altri imprenditori, altre società, compagnie, non necessariamente che operano nello stesso vostro settore, possano immaginare di poter dare lo stesso contributo con una rete del genere. Ma adesso ci arriviamo. Allora Paolo Gagliardo, CEO di, mi dice correttamente come si pronuncia, Kuder o Kuder? Kuder, quindi molto semplicemente. Allora la vostra è al 100% una realtà innovativa nel campo della mobilità. So che lei non vuole parlare di prodotti, del vostro veicolo assolutamente innovativo, al 100% elettrico, però dobbiamo necessariamente parlarne perché le nostre città hanno bisogno di respirare un po' meglio, per cui sempre di più ci trasferiremo per muoverci verso questi modelli. Io la prima curiosità che ho è, guardando un po' quello che è successo nell'automotive negli ultimi mesi, le volevo chiedere se lei si è fatto un'opinione sul motivo per cui l'industria automobilistica non è la sua, ma in qualche maniera comunque il motore è il suo terreno comunque di confronto e di lavoro in qualche maniera, ma perché è rimasta così traumatizzata dal fatto che ad un certo punto si dovesse convincere di passare all'elettrico? Perché abbiamo visto che negli ultimi mesi l'industria in tutta Europa è stata veramente sotto shock, come se non fosse assolutamente pronta né immaginasse che dovesse arrivare un cambiamento del genere, ma perché? Ma non è traumatizzata e di più perché? Perché per elettrificare le proprie gamme i grandi costruttori devono investire svegliati milioni di euro, miliardi. Quindi rinviavano, lei dice? No, e quindi poi hai bisogno di ritornare da questi investimenti e quindi hai bisogno poi di una clientela che ti acquista il tuo veicolo. Allora se uno lo fa per un veicolo è un discorso, se lo fai per tutte le gambe... Io sono un po' fissata con la radio. Sì, certamente. Ovviamente c'è un tipo di investimento che chiede un ritorno importante che verrà, è un discorso proiettato al futuro. Poi l'elettrico non è soltanto una forma di trasporto innovativa, ma implica un cambiamento del comportamento del cliente, della persona che guida, perché non c'è più la possibilità di fare benzina in fretta, ma devi stare lì a caricare. Quindi si può fare, ma è un cambiamento culturale del modo con cui effettivamente si guida. Allora, questo passaggio è ineluttabile, per cui ormai tutte le grandi case automobilistiche stanno andando nella direzione dell'elettrico. Il problema è che poi a un certo punto uno lancia questi veicoli e ci vuole un grande pubblico che li acquista. Quindi il problema è la domanda, siamo noi. Certamente, il tema è che alla fine sono veicoli molto costosi, sono più costosi dei veicoli a benzina o diesel, perché? Perché il costo della batteria è ancora un costo molto importante, non è il motore tanto, ma è la batteria che costa tanti quattrini, per cui c'è questa difficoltà di queste aziende che stanno cercando di aumentare l'offerta di una roba che è il trend su cui tutti quanti stanno andando, ma allo stesso tempo c'è una domanda che ancora è penalizzata per motivi culturali, per motivi di ricarica, per motivi anche ovviamente di costo, di prezzo di questo tipo di veicoli. Quindi lì vince chi riesce in qualche modo a creare un'economia di scala talmente importante che rende il veicolo accessibile a più persone possibili e d'altra parte poi c'è tutto il tema dei governi, dello Stato che deve intervenire, deve creare l'infrastruttura e via dicendo, però tutti questi fattori sono grandi fattori che rendono complesso questo cambiamento epocale che stanno vivendo, che stiamo vivendo. Il tema della mobilità sostenibile è un tema che tra i primi punti, poi non sappiamo come, ma sicuramente l'ordine del giorno di ogni agenda politica e amministrativa e ovviamente le soluzioni che si trovano sono differenti a seconda del territorio con il quale ci confrontiamo, però conosciamo la situazione complessa che vivono soprattutto le grandi città che periodicamente devono intraprendere anche delle iniziative impopolari, il blocco della circolazione, restrizioni all'uso appunto di mezzi privati. Ci spiega voi come interlocutori privati come cercate di rendere un po' più sostenibile il dibattito attorno a questo argomento che appunto a seconda della giornata con cui lo facciamo, siamo più propositivi, più disponibili a ascoltare soluzioni oppure un po' più respingenti? Guardi, io lo spiego semplicemente, dal nostro punto di vista proprio aziendale la mobilità è libertà, più è facile muoversi in automobile, in bicicletta, in moto, tutte le forme di mobilità, tutti gli autoveicoli, i veicoli sono modi con cui le persone poi sono più libere perché puoi spostarti e puoi farlo in perfetta sicurezza. Allora il punto è che questa libertà, quindi la mobilità è sotto minaccia, è in questo momento sotto la più grande pressione in cui è mai stata nella propria storia, perché? Perché nelle grandi città non c'è solo il tema della sostenibilità e quindi le emissioni, ma c'è la condizione stradale, il traffico, la congestione. Lo stress, nei suoi commenti questo aspetto vedo che lo tocca spesso. Sì, sì, è una situazione in cui tutti quanti noi come abitanti in una grande città, tocca dire che quasi noi a Milano ci va anche bene se confrontati a Roma, adesso siamo anche abbastanza... Qualsiasi città europea, questo è proprio un fatto, è in questo momento sottoposta a una grandissima lotta alla mobilità, mobilità privata come diceva lei, perché? Perché effettivamente tutte le città cercano di riportare e di rendere più vivibili le città, il problema è che poi le persone hanno delle forti limitazioni sulla propria mobilità. Allora, quali sono i trend? A mio avviso sono tre, fondamentalmente i trend sono tre. Uno è la compattezza del veicolo, per cui immancabilmente sia che siano automobili, sia che siano veicoli a due ruote, a tre ruote, qualsiasi tipo di ruota, vandranno verso una compattazione del veicolo. Il secondo elemento è la sostenibilità, per cui tutti i veicoli andranno nella direzione di una minore emissione e quindi a maggior ragione i veicoli elettrici sono a zero emissioni, per cui vanno nella direzione di questa sostenibilità e poi forse c'è una digitalizzazione dei veicoli, per cui tutti i veicoli saranno in qualche modo interconnessi, in modo tale che uno non si limita a utilizzarlo per se stesso, ma magari nel nucleo familiare, con gli amici, uno può mettere in comune questa tipologia di veicoli. Quindi tutte le grandi automotive, veicoli a due ruote, tutte le automotive in senso lato, vanno in quella direzione e tutti presentano veicoli compatti, veicoli innovativi, concept di veicoli compatti, innovativi ed elettrici e quindi la direzione è quella lì. Il punto è che tutto questo ragionamento deve scaricarsi a terra in veicoli che effettivamente siano accessibili alla massa, alla gran parte delle persone e che quindi siano poi una soluzione a questa guerra nei confronti della mobilità. Includo anche non soltanto il tema delle emissioni, ma il traffico, il parcheggio, tutte le cose di cui ci siamo detti, abbiamo descritto poco fa e che sono sicuro tutti quanti in platea in questo momento annuiscono, faccio mente locale a questo problema. Simone bisogna fare anche degli strumenti assicurativi adeguati per questi signori, per sostenerli un po' in questo cambiamento importante che ci vede tutti coinvolti. Ritornerei per un attimo a The Human Safety Net, questa community engagement di generali, perché abbiamo descritto prima come è funzionato il processo di genesi di questa vostra iniziativa con un coinvolgimento massiccio di tutti i dipendenti, quindi questo legame che avete creato sui territori sui quali generali opera praticamente ovunque. Mi piacerebbe capire le ricadute in termini di creazione di circolo virtuoso tra altre aziende. C'è chi viene a bussare alla vostra porta e vi chiede vogliamo dare un contributo oppure come avete fatto, cosa avete fatto, vogliamo farlo anche noi. Sì, diciamo, stanno accadendo queste cose qui, faccio alcuni esempi. Per esempio all'interno dell'azienda recentemente le generali hanno lanciato il primo piano azionario riservato ai dipendenti, le prenotazioni si sono chiuse da poco e il piano prevedeva anche la possibilità per i dipendenti che sottoscriverono il piano di donare una parte delle azioni che il dipendente acquista, perché l'acquista con i suoi soldi, alla Human Safety Net. Più della metà dei partecipanti al piano lo hanno voluto fare, anche se siamo in una fase iniziale. Quindi, e questo non parlo solo dell'Italia, ma parlo di... Non c'era come dire un track record sul quale puntare, dire invece tutto sta nascendo adesso. Devo dire, e questo entra nello stream di una storia a cui credo molto che è quella che è una delle cose più sottovalutate che c'è nel business e forse nella società in generale è la generosità delle persone, perché spesso tendiamo a pensare che magari le persone hanno molti input, sono magari non necessariamente sensibili a certe cose, invece in realtà siamo tutti quanti, se opportunamente ingaggiati, sensibili nel poter dare una mano, nel poter aiutare, indipendentemente dal fatto che stiamo molto bene o stiamo meno bene. Un'altra conseguenza è la quantità di ONG che abbiamo attivato e alle quali abbiamo consentito di aumentare la loro attività. Per esempio in Italia il programma della Human Safety Net, che è noto anche con il nome di Ora di Futuro, perché si aggancia a un programma molto bello che viene fatto nelle scuole... Ci hanno già spiegato che dobbiamo tradurre tutto in italiano stasera, nell'intervento precedente. Infatti Andrea, di Ora di Futuro è la traduzione libera di Human Safety Net, tra virgolette, ed è un programma col quale le ONG che abbiamo ingaggiato hanno potuto allargare la loro presenza sul territorio. Oggi se non ricordo male ci sono 11 centri in Italia e aumenteranno, quindi abbiamo consentito a queste aziende, a queste organizzazioni di svilupparsi e poi abbiamo cominciato a ingaggiare aziende grandi e aziende piccole su questi programmi in cui ci siamo presentati a loro non come assicurazioni generali ma come The Human Safety Net, perché io mi rendo conto che nel campo del business il brand quando viene legato ad attività di community engagement è positivo ma può creare evidentemente delle tematiche se tu vuoi fare delle cose in alleanza. Ecco diciamo che noi questo problema non lo abbiamo, non abbiamo un tema di brand, non teniamo a dire che con generali abbiamo raggiunto un risultato 10, ci piace molto di più poter dire che generali insieme a, oppure qualcuno insieme a generali abbiamo raggiunto un risultato 30, 40 o 100. Quindi abbiamo iniziato a farlo, stiamo ragionando, stiamo parlando con almeno una decina di aziende e il coinvolgimento può andare dalla partecipazione ai nostri programmi o lanciare programmi comuni sugli ambiti dove opera la Human Safety Net o ragionare su possibilità di collaborazione sull'impact investing, possibilmente in aree legate a quelle dove opera la Human Safety Net. È una cosa che abbiamo iniziato da poco perché, e su questo il team della Human Safety Net me lo dice sempre, cerchiamo ovviamente di consolidare i risultati perché questo ci consente poi di poter essere ovviamente più attraenti come partner da un certo punto di vista per altri gruppi italiani e internazionali. L'impact investing è molto importante, ero la settimana scorsa al forum della finanza sostenibile a Roma e diciamo che tutti i colossi mondiali del mondo finanziario si stanno proprio interrogando su come provare a sensibilizzare sempre di più la platea degli investitori, dei risparmiatori verso questa direzione ma soprattutto cercando poi, una volta che queste scelte si sono fatte, di calcolare quanto impatto positivo si genera per esempio in termini di riduzione di cambiamento climatico, di condizione climatica negativa per cui sta diventando anche questo sempre di più un tema interessante per grandi player come voi. Un'ultima domanda a Paolo Gagliardo, ho letto una cosa interessante di lei che dice di voler andare dove nessun uomo è andato prima. Aveva una citazione di Star Trek, una citazione di Star Trek. Vabbè, però lei se ne è appropriato evidentemente, aveva un po' questa ambizione di passare alla storia dell'industria. Dove vuole andare con questo settore? Le spiego, noi vogliamo semplicemente, noi siamo una piccola azienda, una specie di start up, un'azienda che stiamo ristrutturando, siamo una sorta di squadra che viene dal mondo automotive e che si è appassionata a questa tecnologia di cudere che è una tecnologia proprietaria, si chiama HTS che è una sorta di basculazione che consente una basculazione del veicolo e anche una sospensione indipendente del veicolo su tutte e quattro le ruote. Perché voi questo mezzo l'avete creato? Perché doveva essere sicuro in primo luogo? Esattamente, è un veicolo unico al mondo e in questo momento lo stiamo in qualche modo allargando, cioè stiamo estendendo la gamma. L'avete testato su Roma, io sempre ritorno. Come? Le buche di Roma le gestisce? Guardi, ci siamo ben altro, le buche di Roma è un esempio perfetto del motivo per cui uno dovrebbe comprarsi il nostro bicchio. Bicchio facile, esatto. Assolutamente, però il punto è che noi stiamo allargando, quindi stiamo andando nella direzione della compattezza, direzione della sicurezza, direzione della sostenibilità con le emissioni zero e quindi in qualche modo mentre tutti, come dicevo poco fa, in questo momento presentano delle idee, presentano dei concept, presentano delle wishful thinking, come direbbero gli americani, noi in realtà nel nostro piccolo, per carità, senza alcuna presunzione, dico che noi già offriamo una soluzione molto concreta e questo qua non lo dico io ma lo dice proprio il cliente finale, noi ovviamente facciamo delle ricerche per capire il nostro cliente finale, il nostro cliente finale ci riscontra proprio questo, il nostro non è un elemento di comunicazione ma risolve effettivamente in maniera molto tangibile delle problematiche che il cliente ha ogni giorno, la mattina quando si sveglia e va al lavoro, durante la giornata e poi la sera quando rientra a casa. Quindi andare là dove nessun uomo è mai stato nel senso che è un'esplorazione che noi stiamo facendo, stiamo avendo anche dei bellissimi tassi di crescita nei paesi europei, l'anno prossimo saremo negli Stati Uniti e anche in Russia e anche in qualche paese asiatico che in questo momento ci sta notando e che effettivamente sta introducendo il nostro veicolo. In un paese che ha molto spesso in passato, passatemi il termine, è brutto ma è necessario utilizzare questo, drogato il mercato dell'auto ma non solo, con forti pacchetti di incentivi secondo lei per cambiare la cultura in questo senso potrebbe essere necessario una sponda di questo tipo? Ma sì, bisogna rendere quel tipo di veicoli, specialmente quelli più costosi, quindi per esempio quelli elettrici, accessibili al largo pubblico perché poi alla fine la vera barriera è quella là, il tema ideale è giusto, dobbiamo essere tutti sensibili, probabilmente saremo tutti presto elettrici, però la barriera più importante è il prezzo del veicolo, per cui chi riesce a offrire delle soluzioni che rendono accessibile questo tipo di veicolo poi alla fine vincerà e si sta andando tutti quanti in questa direzione, per cui non è if but when, nel senso che non è un problema se succederà ma quando succederà ed è una curva esponenziale. Una chiusura con Simone, il prossimo impegno della rete nel 2020 è possibile stabilire? Direi il prossimo impegno del 2020, due obiettivi diciamo prioritari non unici che sono quelli di ovviamente aumentare il numero di beneficiari, ora che l'infrastruttura è abbastanza forte, ben sistemata nei vari paesi e la seconda è il punto di cominciare magari ad annunciare delle alleanze con altre aziende sui settori dove operiamo. Benissimo, stanno cominciando ad apparecchiare i tavoli, mi sa che vi tocca iniziare la cena. Grazie a tutti, grazie a Simone Bemporada, Paolo Gagliardo e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.